Scempio e degrado. Dopo 72 ore dalla notte di Capodanno, l'aria è ancora sporca e impraticabile, come testimoniano le immagini delle nostre telecamere. Rifiuti all'ingresso, pezzi di vetro e di cartoni, resti dei fuochi d'artificio e dei botti lungo le scale delle cento fontane. Un'immagine non proprio decorosa del sito storico dopo i festeggiamenti di fine anno. Una situazione comune in molte strade, dove poi si è provveduto a ripulire. Una serata di festa che lascia il segno anche per la rissa tra baby gang in via Marconi e le installazioni natalizie distrutte da vandali in piazza Santa Croce e a via Salvatornoto. E non mancano in città e sui social le lamentele dei cittadini, per la poca pulizia delle strade, per la presenza spesso di spazzature ed ingombranti, senza contare i raid vandalici, l'inciviltà e l'incuria. La denuncia comune resta sempre la stessa, la mancanza di controllo del territorio, a tutela dei cittadini.